Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. C'è un telefono che ieri non ha mai smesso di squillare, quello di Nadia Vidale, la dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Industriale Severi di Padova. La sua lettera al professore che si è messo in congedo fin dal primo giorno e di nomina, pubblicata poi sul Corriere della Sera, ha suscitato indignazione, rabbia e solidarietà. Al momento sono due le sezioni del bienio, sezione IE e IF, di fatto senza docente di diritto, causa congedo di chi ha vinto la cattedra. Arrabbiati con il professore che hanno visto soltanto una volta anche gli studenti. Si schiera con la dirigente scolastica del Severi e anche l'assessore all'istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan che annuncia un'indagine sul caso. Due anziani coniugi sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione in via Camagno in zona San Carlo a Padova. Le vittime sono Michele Perin, 85 anni, e Cesarina Pescante, 84 anni. I corpi di marito e moglie sono stati rinvenuti vicino al portoncino d'ingresso dell'abitazione nel Vanoscale. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri, al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di morte naturale. Non sono infatti stati riscontrati alcun segno di violenza, non è da escludere che uno dei due sia morto per primo e che l'altro sia deceduto a seguito di un malore. Le salme sono state affidate ai familiari, si presume che i decessi siano avvenuti un paio di giorni fa. Sono stati pizzicati al centro commerciale di Campo San Piero mentre rubavano scarpe e indumenti. A finire nei guai, le scorse ore, una coppia, lui 28 anni, di Roma, lei invece una 25enne disoccupata. I due, una volta entrati nel negozio, quello giusto, hanno rovistato tra i scaffali nascondendo due paia di scarpe da tennis e diversi capi di biancheria intima, un bottino del valore di 230 euro. La coppia scoperta è stata poi denunciata ai carabinieri. Si è tenuta questa mattina nello studio del commissario prefettizio di Padova, Michele Penta, una riunione tecnico-operativa sul piano neve messo in atto dall'amministrazione comunale di Padova, già in funzione ormai da giorni, per affrontare l'emergenza climatica in città. L'incontro, oltre a Penta, hanno preso parte i tecnici del comune e le previsioni meteo dicono un generale pergioramento delle condizioni climatiche. Stasera, infatti, saranno in funzione ulteriori dieci trattori con lama e spargi sale da destinare alle vie secondarie della città, che vanno ad aggiungersi agli altri cinque mezzi già attivi sulle lungole arterie principali. Si aggrava ulteriormente la posizione dell'infermiere rumeno di 41 anni dipendente dell'azienda ospedaliera di Padova, ha restato il 4 gennaio scorso per il reato di violenza sessuale aggravata. I carabinieri del NAS lo avevano sorpreso ad abusare sessualmente di una paziente cinese di 58 anni, ricoverata nel reparto di neurochirurgia dopo averla stordita con dello stupefacente. L'uomo sposato è padre di famiglia. L'infermiere si sarebbe macchiato anche di altri due reati, quello di maltrattamenti nei confronti di altre due pazienti, qui avrebbe somministrato farmaci non prescritti allo scopo di stordirle, e quello di peculato perché si sarebbe appropriato dei medicinali dell'azienda ospedaliera. Sono inoltre in corso ulteriori indagini per verificare se altre donne siano state vittime di abusi sessuali da parte del 41enne. In queste ore il trasferimento dell'uomo dal carcere di Padova a quello di Verona, dove esiste una sezione riservata ai detenuti indagati per violenza sessuale. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sabbionara nel comune di Munselice per un incendio divampato sotto una tettoia chiusa di una abitazione. I pompieri intervenuti da Este con due squadre sono riusciti a circoscrivere le fiamme al sottoportico andato completamente bruciato, evitando l'estensione del rogo alla casa. Una bravata che gli è costata una segnalazione alla Procura per la violazione della normativa sulle armi giocattola. A finire nei guai un ragazzino di 15 anni di origine italiana. Il giovane era andato a scuola, proprio all'Istituto Severi, rascondendo nella tasca del giubbotto quella che sembrava proprio una vera pistola. Lo studente minorenne a quel punto è stato convocato con i genitori e la polizia nell'ufficio della preside per chiedere spiegazioni. Lui per giustificarsi ha raccontato di aver acquistato l'oggetto, la scacciacani, appunto in internet. Dopo aver fuso il tappino rosso di riconoscimento all'interno della canna, si è presentato a scuola. Agli agenti l'oggetto così modificato risultava del tutto simile ad una berretta. Il ragazzo si è scusato, ma è stato comunque denunciato e alla fine affidato ai genitori. E c'è un risvolto ancora più scioccante nel blitz delle Inas, la ricerca delle zampe d'orso all'interno del ristorante cinese di Padova in corso Stati Uniti. Il piatto servito con le zampe d'orso in realtà potrebbero essere zampe di, o meglio, piedi umani. A fine novembre un commerciante cinese, a quanto pare proveniente dalla Slovenia, si sarebbe recato al ristorante cinese di corso Stati Uniti e avrebbe chiesto ai proprietari di cucinare per lui e i suoi amici due squisitissime zampe d'orso. Zampe che ha portato direttamente il cliente e che avrebbe consegnato allo chef. Il cuoco non si è tirato indietro, ha messo in pentola le zampe e le ha servite a tavola. Ma prima di farle portare in tavola, il cameriere ha fotografato la bizzarria di questa pietanza e ha postato l'immagine nel suo profilo Facebook. La cosa non è passata inosservata ad un cliente abituale del ristorante italiano che ha deciso di segnalare la stranezza culinaria ai calabinieri del NAS che sono ovviamente intervenuti. Tragedia che si è battuta sulla comunità di Zellarino e soprattutto sulla famiglia Pettenò dopo le festività di fine anno. Stefania, 46 anni, è morta l'altra sera all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove era andata accompagnata al marito Carlo per un normale controllo dopo il malessere e i continui mal di testa accusati nei giorni prima dell'epifania. Era stata per un consulto anche dal suo medico di famiglia che l'aveva rassicurata. Non è nulla di grave ma se non passa vada a farsi vedere al pronto soccorso. Questo Stefania Mariano aveva riferito serena alle amiche e ai genitori dei compagni di scuola, dei figli che ieri increduli e sconvolti hanno saputo della tragica notizia. L'aggravamento delle sue condizioni è stato fulmineo. La burocrazia e le difficoltà di accesso al credito fanno perdere al Polesine una grande occasione che avrebbe favorito sicuramente l'economia e anche l'occupazione con 300 nuovi posti di lavoro. La Ascol, azienda di due ville in provincia di Vicenza, aveva progettato di fabbricare la prima vera auto elettrica italiana in uno stabilimento del Polesine. Il progetto prevedeva un investimento di 100 milioni di euro ma non si potrà sviluppare in Italia. Così il colosso Vicentino ha dovuto abbandonare l'idea di riprendere l'attività nella fabbrica di San Bellino e ha iniziato a tessere i rapporti con la Cina dove l'accordo ormai è fatto. A parlare di questa grande occasione persa è il patron dell'azienda Elio Marioni che ha raccontato quanto è avvenuto con grande delusione. Ha alzato le mani contro la compagna che lo aveva ospitato per scontare gli arresti domiciliari dopo la condanna a due anni e otto mesi perché malmenava i propri genitori. E ora si trova in carcere e così doveva finire. Paolo Pagliello, 25 anni, di Viladose, ha avuto un altro comportamento violento. Sono stati i carabinieri di Polesella ad intervenire segnalando poi l'autorità giudiziaria l'aggressione nei confronti anche della sua convivente. E sempre i carabinieri ieri sono andati a prelevarlo e a trasferirlo dal Tribunale di Rovigo direttamente in carcere. E ancora ricordiamo che stasera alle ore 21.15 in diretta dal Cafè Pedrocchi di Padova andrà in onda la prima puntata del nuovo anno della trasmissione Il Tarlo a cura di Alberto Salmaso. Il tema sarà 2017. Tra dubbi e poche certezze interverranno il consigliere regionale della Rega Nord Luciano Sandonai, il consigliere comunale di Cadoneghe e Federico Alati e ancora Gino Favero, assessore delle due carrare e Giuliano Altavilla del Movimento 5 Stelle e Andrea Castagna del Partito Sinistra Libertà. Domani mattina alle 10.30 presso l'auditorium Pontello del Centro Civitas Vite sarà presentato un convegno che trasmetteremo in diretta anche da questi teleschermi dove si presenterà l'esoscheletro, la veneristica protesi bionica che consente a chi ha perso l'uso delle gambe a tornare a camminare. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione. Grazie per averci seguito. Ora la linea ovviamente torna ai colleghi delle altre redazioni. Grazie per averci seguito.